ciao oggi ho acquistato a un negozio questa confezione di pikachu zenith regale pikachu v max dove c'è pikachu carta piccola carta gigante è più questa pikachu v all'interno ci sono cinque bustine gigamax provo ad aprire la conduzione e scoprire cosa c'è all'interno a questa carta luccicante si evolve da Pikachu V tutta luccicante ed è pure rovide dove si intravedono tante lineette c'è questa Pikachu qui tutta luccicante anche lei Pikachu V bellina come carta e c'è la passione in piccolo anche questa è tutta rovida forse qua si vedete più si G-Chi-Chi-V bella come carta bella poi c'era anche il QR Code e le metto insieme all'interno ci sono 5 bustine di Zenith Regale all'interno ci sono 10 carta provo ad aprire la prima bustina per scoprire cosa c'è all'interno dove c'è il QR Code provo ad aprirla e c'è Salandit Purline Grubin Grubin Scrap Heliop Heliop Tigle Clacion Vastro bella questa carta si evolve da Clacion Clacion Vastro bella questa questo è anche l'affetto ruvido luccicante dove vanno le regne tutte ondulate bella bella come carta bellissima anche questa l'energia tutta luccicante ed è anche ruvida tutta bellissima anche questa dove si intravedono anche le sfere carta energia luxio si evolve da synx allenatore trolley di salvataggio e come ultima c'è electric electric e questa era la prima bustina ora vado ad aprire la seconda delle 5 la prima carta è un doppione qua c'è il quercode Grubin help l'abbiamo trovata anche poco fa Heliop Tile anche poco fa volume synx abbiamo trovato la fase 1 nell'altra bustina oh ditto bellissima questa c'è anche questa zona che luccica laccato bellissima formato base e base bellissima bellissima carta nev 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 v tutto luccicante vado questa è la migliore delle bustine bellissima tutta luccicante tutta tutta bella colpo fusione bellissima luccicante rosa poi troviamo carta energia allenatore amice esui 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 saimni saimin allenatore martello dirompente questo dovrei averla questa era la seconda bustina dove la carta buona era lei e questa tutta due belle ora ora devo aprire la terza bustina siamo alla metà sono alla metà e la prima è una bella carta qui c'è il quarkode con il codice da giocare e c'è rock roof bellina come carta purroin l'abbiamo trovata poco fa lovdisc questa è una carta comune che si trova spesso katot bella come carta un pappagallo musicante con la testa a forma di nota yanma bella electivire electivire bellissima come carta la fase 1 si evolve da electrabuzz che è una carta che dovrei avere il base bella come carta questa l'occigante bellissima bella bella la metterà da parte scisor fase 1 questa è un'altra carta che mi manca si evolve da siter carta energia allenatore allenatore kappa pokemon ci sono altre due sal l'azle un'altra carta che si trova più o meno fase 1 e caramella rara e caramella rara questa era la terza bustina adesso vado aprire la quarta e penultima bustina vado a scoprire cosa c'è all'interno e la prima carta è già uscita è uscita per la terza volta l'erquercode scrap elop deal anche l'epo la terza volta volu la seconda volta synx è uscita anche poco fa pancam sarahora tutta luccicante bella pure che base bella bellissima sarahora tutto laccato di gialloro taurus questa è anche una bella carta bellissima un toro tutto imballicciato con due code bella anche questa energia saimin martello rompente e carnevine carnevine e quella era l'ultima adesso vado ad aprire l'ultima bustina sperando che sia la più bella e la più fortunata vado a vedere cosa c'è all'interno la prima è una che dovrei già avere ecco il quercode snorunt rocruf è uscita poco fa tangela baltoi al baltoi che bella carta c'era lì sotto me out galash questa sarà una bella carta baltoi questa mi mancava che sarebbe la fase che non luccica e quella che luccica base questa mi mancava questa ce l'ho come doppione bella questa da mettere da parte dragalage fase 1 si evolve da scrap questa mi manca mi manca anche il base e il fase 2 energia scambio di energia dovrei averla come doppione scarpe di trekking anche questa come doppione e alla fine c'è lunatone carta diciamo comune e questa era l'ultima delle cinque bustine dove ho trovato almeno una decina anche mi sa anche di più di carte buone che dovrei mettere nella collezione compreso queste tre questa bellissima carta vi ringrazio di aver visto questo video ci vediamo ai prossimi video ciao 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 Grazie.